Eccoci qua anche quest'anno per celebrare e festeggiare il gemellaggio con Senise. In questo anno molto particolare, anche questo momento ha subito i cambiamenti per renderlo adeguato alle norme anti-Covid. Nonostante questo sentiamo tutti forte la necessità proprio di rimanere uniti, di continuare questo percorso di fratellanza direi tra la comunità di Busto Garolfo e di Senise. Un percorso che ha dato e che continuerà a dare grandi frutti e soddisfazioni ad ambedue le comunità. Non vedo l'ora di poter ritornare a Senise in presenza e abbracciare tutti loro. Grazie.